Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe e ho deciso di fare questo video per parlarvi di un argomento di cui in questi giorni si sta molto discutendo in Italia e in Europa. Mi riferisco all'accordo bilaterale tra l'Italia e l'Albania circa l'accoglienza e lo smistamento di migranti soccorsi in mare e diretti sulle nostre coste. Dunque è dal 14 di ottobre, quindi pochi giorni fa, che questi centri sono già operativi in Albania. Hanno praticamente creato in Albania un paio di strutture il cui costo, pensate un po', diciamo stimato, si aggira intorno al mezzo miliardo di euro in cinque anni. Dunque queste strutture praticamente sono ubicate una a Shenzhen e l'altra a CADN. Dunque come funzionano queste queste strutture? Dunque la struttura di Shenzhen è destinata diciamo ad accogliere i migranti per rilevare le loro generalità per stabilire se hanno i requisiti per poter richiedere il diritto di asilo in in Europa, in Italia e quindi in Europa. Quindi c'è proprio una commissione in questa struttura che deve valutare, deve valutare caso per caso, se il immigrante ha diritto appunto a richiedere asilo. In questa struttura, questa struttura può ospitare, può ospitare diciamo al massimo circa 800-860 persone. Chi invece non ha diritto, non ha i requisiti per poter richiedere diritto d'asilo, viene dirottato poi all'Agiaden, può ospitare al massimo 140 persone. Da questo centro poi, che si chiamano centri di reclutamenti, di permanenza e rimpatrio, quindi CPR, quindi centro di permanenza e rimpatrio, vengono poi rispediti nei paesi di origine. Dunque, parlavo prima dei costi esorbitanti di queste strutture che sono state costruite totalmente a carico del governo italiano. Sono ubicate in Albania, ma di fatto si cadono sotto la giurisdizione dell'Italia. La prima obiezione da fare è che facendo una simulazione dei migranti arrivati in Italia nel 2024 fino ad oggi, dovrebbero restare in circa 52.000 persone, ebbene, di questa simulazione, in base ai criteri stabiliti da questo accordo bilaterale, al massimo, per poter, le persone che potrebbero essere dirottate, che avrebbero potuto essere dirottate in questi centri, in tutto quest'anno sarebbero state al massimo 10.000. Ripeto, su 52.000 solo 10.000. Perché dico questo? Perché la, diciamo, la scrematura che si fa di questi migranti, dunque, riguarda innanzitutto il sesso, quindi devono essere solo persone di sesso maschile. Devono praticamente essere maschi non vulnerabili, quindi non devono presentare delle criticità, diciamo, di natura sociale o psicologica. E poi, la cosa molto importante, devono provenire da paesi sicuri. Ora, qua ci sarebbe un attimino da discutere perché se per l'Italia alcuni paesi sono sicuri, non sono sicuri per le regole della comunità europea. Possiamo anche fare un esempio. La Turchia e l'Egitto, per esempio, per l'Italia sono paesi sicuri, per l'Unione Europea no. Perché in questi paesi, in Turchia, ad esempio, l'omosessualità è un reato e se uno viene praticamente ad essere dichiarato gay, deve scontare tre anni di carcere. Quindi non sono paesi sicuri anche dal punto di vista dei diritti umani. Quindi c'è questa differenza, proprio differenza di vedute tra l'Italia e la comunità europea, per cui, già, solo sul fatto che ci siano queste differenti valutazioni riguardo a paesi sicuri, già comunque creerà non pochi problemi. I paesi non sicuri potrebbero essere, per esempio, la Siria, il Bangladesh. E quindi, ripeto, per l'Europa, anche l'Egitto, anche la Turchia, non sono sicuri. Dunque, e quindi di questo le comunità LGBT avrebbero molto da ridire per quanto riguarda il trattamento di questi migranti che si dovessero trovare in questa situazione. Dunque, come funzionano questi centri? Vengono trattenuti all'incirca un mese, perché secondo quelle che sono, diciamo, le direttive italiane, questo è il tempo tecnico necessario per poter, diciamo, risolvere la pratica di ognuno di questi migranti. Ed un mese, effettivamente, dal punto di vista giuridico, non è un lasso di tempo, diciamo, non si riuscirà mai ad espletare tutte le pratiche in un mese di tempo. Queste pratiche vengono poi, innanzitutto, le domande vengono inoltrate alla Questura di Roma che poi le passerà poi alla diciottesima sezione del Tribunale Civile di Roma. E quindi ci sarà, è chiaro, un aggravio, anche una, come devo dire, insomma, oltre ai problemi nostri italiani, si sa benissimo che le cause civili vanno un po' a rilento, figuriamoci quando poi saranno anche obberate queste commissioni anche dalle domande dei richiedenti dell'asilo. E quindi anche questo porta dei problemi di natura proprio tecnica, di gestione, insomma, della cosa. E dunque, i migranti che dovessero essere poi trovati in mare, praticamente dovrebbero essere poi accolti sulla motonave Libra. Questa motonave Libra è posizionata a circa 37 km da Lampedusa, 37 km da Lampedusa. Quindi diciamo che già non si troverebbe più nelle acque territoriali italiane, no? Perché superati poi le 12 miglia in circa 24 km, e quindi si troverebbe già in acque internazionali. E quindi già questo potrebbe anche creare problemi di natura giuridica, in quanto ci troviamo in acque internazionali e dunque secondo le regole del diritto internazionale, chiunque persona si trovi in mare deve essere salvata, protetta e portata al porto di destinazione più vicino. In questo caso invece c'è un prelievo, diciamo, coatto e anche una decisione, anche questa coatta, di trasferire queste persone in Albania, anziché nei porti italiani. Già questo, diciamo, potrebbe sollevare dei problemi, ripeto, di natura costituzionale, perché comunque stiamo cominciando a ledere i diritti delle persone. Dunque, ripeto, su questa nave si fa una prima scrematura, come avevo già parlato prima, per poi portare queste persone in questi centri in Albania. Dunque, il problema quindi è che queste strutture possono gestire, come vi ho detto innanzi, quindi mille persone, anche se loro parlano di 3.000 persone al mese. Quindi in totale dovrebbero essere 36.000 persone all'anno. Io non ho capito bene come, visto che la struttura di Shenzhen ne ospita 8,8 e 60, e Jaden ne ospita al 340, per cui non capisco bene poi le persone in sovrannumero che cosa faranno, che cosa succede. Mi viene da ridere, se non ci fosse da piangere, del fatto che comunque non ho capito se le persone in sovrannumero verranno buttate in mare di nuovo, pazzesco, insomma. È una situazione veramente paradossale, anche perché poi questi centri dovranno sempre rimanere in contatto con le navi che preleveranno i migranti dal mare, proprio per comunicare il raggiunto limite di persone che si possono ospitare in questi centri. Io mi chiedo come verranno poi gestite le persone in sovrannumero. e tenete anche conto che il discorso del rimpaccio di chi non ha diritto verrà sempre effettuato con queste navi sempre a spese del governo italiano, quindi non ci sobraccheremo un sacco di costi in futuro, proprio perché il governo parla di deterrenza, ci hanno creato queste strutture, di modo che le persone che decidono di venire in Italia con mezzi, diciamo, più svariati su barconi, su praticamente motonavi magari vecchi, antiquati, che magari rischiano anche la vita, devono comunque sapere già in anticipo che non arriveranno, non approderanno nei porti italiani, ma saranno, ripeto, obbligatoriamente dirottate verso questi centri in Albania. E anche questo solleva dei dubbi di natura giuridica, perché sono sempre, diciamo, stiamo parlando di persone, non di cose, e quindi bisognerebbe un attimino vedere se questa processi, questa procedura, questo accordo bilaterale, di cui l'Europa comunque non ne sapeva nulla, è stato comunicato soltanto, diciamo, quando sia il governo italiano che il governo albanese hanno posto la loro firma su questo trattato. Quindi effettivamente il problema poi di riportare queste persone nel loro paese da origine, insomma, rimane un bel problema. Insomma, sta nave fa la sua giuda da una parte all'altra, insomma, del Mediterraneo. Che altro aggiungere, insomma? E' una situazione veramente che solleva non pochi dubbi per quanto riguarda la gestione, per quanto riguarda il trattenimento anche di queste persone, che è poi una cosa importante. Dunque, questo è sotto, dipendendo dal mistero dell'interno. E lì c'è una commissione fatta anche da psicologi, personale forse dell'ordine e quant'altro. Ma se una persona intenderebbe fare ricorso contro queste decisioni e presa dalla commissione, ma anche se teoricamente avrebbe sette giorni di tempo a poterlo fare, ma come fa questa persona a comunicare con l'esterno, a trovarsi un avvocato, l'avvocato che può vedere praticamente esaminare tutte quante la situazione del soggetto in questione. Quindi, di fatto, queste persone non hanno anche un diritto di ricorso, un diritto di appello, di difesa, avverso questa decisione. Ripeto, e anche questo è un motivo per, diciamo, per sollevare proprio dubbi di natura giuridica e costituzionale sulla decisione prese, insomma, dal governo italiano e da quello urbanese. Dunque, è chiaro che la nave è italiana, la bandiera è italiana, per cui le persone accolte su quella nave sarebbero soggette al diritto dell'Italia. Però questo avviene in un ambiente extraterritoriale e anche qui subentra il diritto, diciamo, appunto internazionale. Sinceramente c'è un poco di confusione in quello che hanno praticamente fatto, anche se la Meloni ci dice che sia l'Inghilterra che la Francia stanno effettivamente esaminando, stanno valutando di fare la stessa cosa come l'Italia, sicuramente l'Unione Europea frapporrà degli ostacoli, ripeto, di natura giuridica a queste decisioni che hanno preso. Niente, insomma, io poi una considerazione mia personale che comunque pur di non vedere persone diciamo di nazionalità e di colore di pelle diversa dalla nostra ci siamo praticamente sobbarcati in questi oneri pazzeschi, ripeto, mezzo miliardo in cinque anni, anche perché lì il personale è tutto italiano praticamente. L'Albania ha solo messo il territorio, ma la struttura è stata costruita da imprese italiane e agli albanesi è solo affidata la tutela dell'ordine tutto intorno alle due strutture costruite in Albania. Quindi, insomma, quando penso che in Italia siamo messi veramente male per quanto riguarda la scuola, la sanità, dove si parla sempre di tagliare le spese perché non si possono aumentare le tasse, il che poi non è vero perché comunque le tasse le stanno aumentando, e anche le accise sui carburanti, di cui la Meloni ci aveva promesso di non aumentarle, ma addirittura di abbassarle, quindi stanno facendo esattamente il contrario. e quando penso che questi soldi vengono proprio buttati via a male proprio per poter mantenere in piedi queste strutture che servono ben poco, ripeto, così come sono concepite, servono ben poco e sollevano problemi di svariata natura. Io credo solamente che tutto fumo negli occhi serve solo ad assicurare ad alcune categorie di persone in Italia che comunque terremo i migranti fuori dalle coste italiane, quindi se non ci sono i migranti il problema non esiste. Insomma, è qualcosa di inadattabile, che non va bene e che dovremmo in qualche modo nelle sedi istituzionali adatte far sentire la nostra voce e cercare di porre qualche rimedio ad una situazione del genere. Niente, il messaggio che volevo condividere con voi e magari lasciate nei commenti qualche vostra considerazione e ditemi se le mie perplessità sono insomma, le mie rispressioni sono sbagliate oppure no. Grazie mille dell'attenzione e io vi saluto, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.